Vivere qui è molto bello, sicuramente da privilegiati e sicuramente vivere in mezzo alle piante dà un senso di pace, di tranquillità, di serenità, è più fresco e più ventilato soprattutto in alcuni momenti della giornata. I think it's one of the most efficient way to deal with climate change, to tackle climate change, to multiplicate the number of green surfaces in our cities. Musica 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 Musica